Un incendio ha devastato alle prime ore di questa mattina un'abitazione fortunatamente disabitata in via Coada a Codogne, conosciuta come Casa Andretta, essendo appartenuta tra gli altri anche alla famiglia dell'ex sindaco Lorena Andretta, attuale segretario provinciale del PD. L'allarme ai vigili del fuoco è scattato alle 6.40. Il lavoro, spiegano gli uomini del 115, si è presentato subito complesso. Sul posto hanno lavorato tre mezzi di Conegliano che dopo aver spento l'incendio hanno proseguito per l'intera mattinata per mettere in sicurezza tutta l'area. Trattandosi di un'abitazione disabitata, le cause del rogo sono in corso di accertamento e restano tuttora ignote. Sul posto è intervenuta anche una squadra dell'Enel.